Con questa operazione avevamo già iniziato la restituzione alla città con il trasferimento della sede dell'ordine degli architetti e della fondazione e oggi completiamo l'intervento con l'inserimento della nuova attività con Reale che parte della strategia di grandi stazioni di ristrutturare questi immobili fantastici e di restituirli alla città. L'opera che venete anche sul piazzale è coerente rispetto alla riqualifica della palazzina, questo è solo il primo tassello perché come sapete poi da questa primavera l'accesso avverrà anche dal lato della fontana con la ristrutturazione dell'area fontana che è quella accessibile finalmente a tutti i cittadini che ne vorranno godere nuovamente. a tutti i cittadini che ne vorranno